ragazzi allora questo è il video che dovete commentare per essere partecipanti al contest che questa sera quindi fra un'oretta o due a fine live verrà fatto esatto e regalerà ad uno di voi 10 euro da spendere come volete quindi ragazzi spegniamolo subito commentate qua sotto con la parola è la parola è la meteora non fa paura dai mi raccomando ragazzi scrivete in tanti la meteora non fa paura ciao